La storia dell'arte 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 Della sua composizione, della sua performance. Allora, permettetevi di dire che non credo di essere la persona adatta a dare degli insegnamenti, non mi piacciono i maestri di vita, non mi piacciono quelli che vanno a dire si fa così, si fa colà, io non sono certo in grado. L'unica pretesa che ho non è quella di insegnare, ma magari è solo il desiderio di parteciparvi a quelli che sono dei miei convincimenti, convincimenti che vengono dalle mie esperienze fortunate e con la sola speranza che questi miei convincimenti in qualche modo possono essere un motivo di riflessione o comunque di essere presi in considerazione, è tutto quello che mi aspetto da oggi. La performance è un traguardo, ma è soprattutto la conseguenza di quello che abbiamo, di come abbiamo affrontato il percorso. Per me la performance è la conseguenza della qualità delle persone, della qualità della loro vita, anche lavorativa, dello spessore della loro competenza, dei rapporti umani che si instaurano, della giusta chimica tra giovani e meno giovani. E per questo intendo della giusta chimica tra esperienza e qualità e entusiasmo, ambizione e qualità. Attenzione, esperienza e qualità, entusiasmo, ambizione e qualità. Qualità che si è da tutte e due parti però. Noi dobbiamo puntare alla nostra qualità per essere competitivi, individuale. La competitività collettiva è la somma della competitività individuale. Si dice, siamo tutti nella stessa barca. Bella frase. Mi convince. Fa molto spirito. Ma mi... Perché, scusate ogni tanto, ho delle forme dialetali, mi scivolano. Perché non sono proprio stupido del tutto. A me, siamo tutti nella stessa barca, benissimo. Quanti secche, rema. Perché, scusate la barca, siamo in dieci e rema in due. Ora, che se è dura, è? O no? Almeno gli altri otto devono essere donne, per farmi remare, mi impa un poco. Perché se c'è anche degli altri uomini, pianto su uno, ma qua i sindacati fanno uno dei danni, che non avevano neanche una idea. Va bene, veniamo a noi. Vorrei parlarvi di mutuo sostegno, della cultura dell'alibi, in funzione della squadra e del suo essere competitivo, della leadership, della motivazione, dell'automotivazione. Automotivazione che è il centro di tutto. Che è quello che, secondo me, è la cosa attorno a cui gravita tutto. L'automotivazione. Dell'etica comportamentale. Della cura dei dettagli. Del successo, della vittoria, del sogno. E dopo, fin quando dite che devo finire, finisco. Qualcuno di voi, magari, che non segue questo sport con grande attenzione, o anche, magari, che lo segue con attenzione, non è che fa differenza in rugby, si sarà chiesto come mai io mi interesso di rugby, che fisicamente, magari qualcuno ha avuto questa curiosità, gliela tolgo subito. Io giocavo a calcio, sono andato a fare un provino di calcio. Hanno preso il mio amico e mi hanno scartato, a Treviso, oltretutto, io vivo a Padova. Hanno preso questo mio amico e mi hanno scartato, per indorarmi la pillola, sapete, no? Sì, non giocheresti mica male, però saresti un pochino... Ecco, e io lì ho buttato via il calcio e sono passato al rugby, visto che mi aveva detto che ero piccolo per il calcio, capito? Questo non depone per la mia intelligenza, ma ormai questo è quello che ho combinato. Vi ho tolto la curiosità, mi sono innamorato di questo sport e tutto sommato me lo sono anche goduto, questo sport. E allora vi dico brevemente, senza annoiarvi, perché amo il rugby. Amo il rugby per due cose, perché esclude gli alibi e perché ha ben chiaro il concetto di sostegno. Esclude gli alibi, nel rugby vince sempre il più forte. Non è come magari può capitare... Guardate che si impara da tutti gli sport, non è che sia un fanatico di uno sport, si impara da tutto. Bisogna avere gli occhi aperti e la mente aperta per imparare dappertutto. Però magari nel calcio ti può capitare che attacchi tutta la partita, prendi un pallo, due traverse, ti negano un rigore, gli avversari vanno dall'altra parte, autogol, perdi 1-0, te vedi in letto. Ti metti così, non riesci a capire perché hai perso, nel rugby non succede. Nel rugby vince sempre il più forte, on the day. Cioè tu non puoi bleffare e vincere. Ed è un concetto, sono sicuro che sarete d'accordo com'è, che culturalmente è anglosassone. Non è un nostro concetto. Noi l'alibi purtroppo lo cavalchiamo spesso. Noi abbiamo sempre il piano B. Noi abbiamo sempre la scusa per qualcosa che non va bene. Sapete cosa fa il perdente? Il perdente passa la giornata a spiegare agli altri perché ha perso. Ora, se tu sai perché hai perso, vinci, no? Cioè adesso, scusate, io non voglio essere molto intelligente, ma... Sapete cosa fa il perdente? Passando la giornata a spiegare perché perde, l'unica cosa che riceve, sapete cos'è? Commiserazione. Ora, se la commiserazione è nel traguardo di qualcuno di noi, è il che ha risolto il problema. Basta che spieghi tutti i suoi successi. Invece è diverso se vogliamo pontiare a essere vincenti, ma ci arriviamo un po' alla volta. Amo il rugby perché esclude gli alibi. Vince sempre il più forte. Ed è giusto, ed è corretto, ammettere che c'è qualcuno più forte di noi, o ammettere che qualcuno in quella particolare partita, in quella particolare frangente, in quella particolare commessa, è stato più abile di noi. Il mutuo sostegno. Io sono sicuro che dal rugby saprete almeno che passano il pallone indietro e trovate che la cosa abbastanza stupida può essere. Nel rugby tu sei con il pallone in mano e in quel momento sei leader di te stesso e anche dei tuoi compagni, perché tu hai la scelta di cosa fai con il pallone. Tu hai la scelta se vai a sinistra, se vai a destra, se vai dritto, se cerchi di andare a contatto con l'avversario o deluderlo. In quel momento sei appunto leader di te stesso, ma sei leader anche responsabile di quella scelta che tu vai a fare per conto dei tuoi compagni. Diverso è la condizione del giocatore che va in sostegno. perché mi insegnate andare in sostegno a chi portatore di palla fa la scelta giusta, sono capaci tutti. Un po' più difficile è trovare la fede, il desiderio, la voglia, la concentrazione, l'efficacia per andare in sostegno a un compagno che non ha fatto la scelta che noi volevamo o non ha fatto la scelta giusta ma che comunque ha bisogno del mio sostegno. E allora per dare sostegno bisogna avere fede, bisogna avere focus, bisogna stare concentrati, bisogna avere capacità interpretativa, bisogna vivere profondamente questo desiderio di essere di stampella per l'altro. Perché lo si fa? Anche qui la risposta è abbastanza semplice. Perché quando tu avrai il pallone in mano e sarei tu il leader e dovrai far tu la scelta, la prenderai molto più serenamente quella decisione sapendo che comunque, anche se non sarà la migliore, tu riceverai sempre quello stesso sostegno dagli altri che tu hai garantito garantito al tuo compagno. Questi due concetti mi hanno fatto innamorare del rugby ma il rugby per quello che mi riguarda è un aspetto della vita. Le cose importanti non sono in un campo da gioco, le cose importanti sono nella vita. E credo che queste cose possono essere traslate ed essere dei buoni esempi e possono essere comunque mutuate. Questo è il motivo perché mi piacerebbe. Mutuo sostegno. Come vi dicevo, fare la propria parte al meglio e poi aiutare il compagno. Tu fai la tua parte al meglio e poi aiuti il compagno. Tu fai la parte al meglio, tu fai la parte al meglio, tu fai la parte al meglio, tu fai la tua parte al meglio, dai il meglio di te stesso e aiuti il compagno. È semplice? 2 più 2 uguale 5 perché ti giochi il bonus? Se ognuno di noi dà il meglio di se stesso, lo ripeto, perché qua se non possiamo plefare, se ognuno di noi dà il meglio di se stesso e poi aiuta il compagno, abbiamo un plus. Abbiamo il massimo comune deminatore di queste persone, di questa squadra. Come si guarda una squadra? Una squadra di calcio, 11 giocatori, maradone e 10 scarpe, è una squadra che non vale niente? 11 giocatori di buona qualità, denominatore comune più alto, è una squadra che può vincere? Il lavoro che viene fatto sulla squadra deve essere per migliorare l'anello debole? Cosa faccio? Io quando ho allenato ho avuto la fortuna, a parte che sono stanca, testimoni di nozza e siamo amici da una vita, di allenare David, l'ho portato in Italia quando aveva 19 anni, David Campese, che nel rugby, sono sicuro, chi lo conosce, è una paragone con maradone nel calcio. E cosa faccio? Dio che gli ho insegnato io a giocare? Quello impara da solo. il lavoro l'ho fatto sull'anello debole? Se io miglioro i più deboli, quelli che hanno bisogno di migliorare, quelli che devono imparare, coloro che non hanno ancora trovato il loro equilibrio, quando miglioro loro, alzando il loro denominatore comune, non ho alzato il denominatore comune della squadra? è semplice, si lavora sempre sull'anello debole e si cerca sempre di migliorare l'anello debole perché è lì che si alza il denominatore comune. individui automotivati, leader di se stessi, tutti i portatori di palla, che danno il proprio meglio e che si sostengono reciprocamente. Individui automotivati che danno il proprio meglio e che si sostengono reciprocamente. Questa è la condizione ideale di una squadra. La cultura dell'alibi. Ora, senza andare a dilungarmi, sapete che gli inglesi sono sempre stati un pochino più avanti, dicono, perché la rivoluzione industriale l'ha fatta cento anni prima che il resto d'Europa. Con la rivoluzione industriale i gai metà a settimana corta, casa comandava la moglie, erano pensati di inventare tutti i giochi del mondo, calcio l'ha inventato loro, rugby l'ha inventato loro, i gai metà in tutti i giochi, tutti. Hanno inventato anche il croquet. Avete mai sentito parlare del croquet? No del cricket, del croquet. Quello con gli archetti del giardino, con la mazza, che sbagli, te ciappi il ferretto. Cioè, quindi, voglio dire, non è che hanno inventato proprio tutto bene, però ci sono molte cose degli anglosassoni che si possono imparare. e loro in questi giochi qua, nel periodo eduardiano ludico, quando tutti questi giochi sono stati inventati, facevano queste competizioni per il desiderio di esplorare loro stessi. se tu fai una gara di cento metri con un anglosassone, tu alla fine dei cento metri che tu abbia vinto o perso, se tu hai vinto, devi aver sputtato sangue per vincere, perché lui prova a esplorare i suoi limiti, poi ti viene vicino, anche se tu hai vinto, ti dice, good onion, ben fatto, bravo, lui ha posto con se stesso. e questo ha aiutato a creare questa cultura. Io questa cosa me la sono sempre messa in testa da quando guardando quando ero ragazza o ancora facevano gli europei di atletica, allora non c'era tanta pubblicità alla televisione, prima della finale di cento metri mezz'ora a parlare del fatto che un nostro atleta aveva un risentimento muscolare prima della finale. Fa mago da correre, ritirati, cioè voglio dire, cioè abbi pazienza, o te corri o non corri, no, l'importante è che tutto il mondo sapesse che c'era il piano B, e avevo un risentimento, non so, è come se io, io, facessi un incontro di pugilato contro Tyson e dicessi che si aveva un po' di raffreddore, cioè, lo capiamo? scusa che perdo con Tyson, perché do raffreddore, mi fa venire il raffreddore probabilmente, ma non so. Va beh, allora noi questa cultura dell'alibi ce l'abbiamo un pochino, guardate che io sono orgoglioso di essere italiano, non è che voglia, ma si cerca di guardare un po' da tutti, e noi latini abbiamo questa caratteristica di trovare sempre la scusante per i nostri, per le nostre sconfitte, che è un pochino quello che però nel modo ridicolo vi dicevo prima di chi è il perdente, colui che sa spiegare perché perde, ma spiegare perché perde non va neppure vicino a vincere, che dovrebbe essere il nostro traguardo. ma in più la cosa che non ci rendiamo conto e so di toccare un argomento che non offendetevi ma appartiene un po' tutti a noi, quello dell'alibi, soprattutto dobbiamo tenere presente che coltivare gli alibi ci impedisce di esplorare i nostri limiti, ci inibisce il desiderio di migliorare. Se io giustifico qualcosa di negativo o un mio insuccesso, io accetto di vivere sottodimensionato perché ho paura di esplorare i miei limiti e di scoprire che c'è qualcuno più forte di me. Quando sappiamo bene che comunque in qualche aspetto della vita ci sarà sempre qualcuno più forte di noi. mentre io che ho una vita sola secondo me ho il dovere di viverla esplorando i miei limiti al meglio delle mie capacità che non vuol dire altro che vivere la nostra vita pienamente. Pensiamoci perché l'alibi ci fa vivere sottodimensionati senza sapere quali sono veramente le nostre qualità perché non abbiamo il coraggio di esplorarle. Pensate se c'è cosa più stupida e pensate quanto questa pratica tra tutti noi è spesso istintivamente contemplata solo perché non ci ragioniamo un attimo sopra. Coltivare gli alibi ci impedisse di esplorare i nostri limiti ricordiamocelo ci impedisse il desiderio di migliorare. La motivazione è la parola più sfuggente che viene usata dagli addetti ai lavori nella preparazione di un atleta. Secondo me per motivare una persona devi prima individuare una via per il traguardo un tragitto un percorso un progetto devi condividerla con il gruppo devi monitorare questa condivisione sia individualmente che collettivamente perché io devo condividerla ma non in modo che la gente la condivida con le orecchie basse la deve condividere per loro scelta i miei collaboratori devono essere convinti di quelli che faccio perché sennò sono cieco e non vado a nessuna parte quando loro stanno zitti e fanno quello che vogliono ma non sono d'accordo quindi devo monitorarla costantemente cercando di convincerla cercando di passare la fede che ho io in questa cosa sia individualmente che collettivamente e quindi plasmare un'aggregazione performante ecco che allora la squadra è pronta per raggiungimento di un traguardo in altre parole chi chi ha questo compito colui che deve indicare la strada deve sapere assolvere a tantissimi compiti che vanno nel senso più lato dal cane pastore che raggruppa le pecore fino alle abilità di Mosè tutte le robe intermedie sono le qualità che deve avere una persona che guida gli altri e qui veniamo alla leadership che la leadership è di due tipi è quella imposta ed è quella carismatica e lo so e molti dicono eh sì non ho mica scelto il mio capo che tradotto in italiano vuol dire non ho mica scelto io il mio capo bene la leadership può essere imposta o carismatica ma non è importante il leader ha un solo dovere uno uno solo quello di dare l'esempio se no faccia meno un leader non può aiutarsi in altro modo che quello di essere colui che per primo dimostra di aver fede in quello che fa e dice poi la leadership ci sono anche tanti altri modi di vederla perché in un modo più crudo avete presente il branco di lupi che c'è il maschio alfa il giovane del branco la femmina beta tutti organizzati sempre guardie svissere del Vaticano tutti perfetti i lupi sono veramente bravetti il capo branco il maschio alfa lui sa che nella sua vita o prima o dopo il giovane maschio lo attaccherà perché vuole prendere il suo posto però non sa né quando né come il giovane maschio deciderà di attaccarlo l'altra cosa che il capo branco sa è che quando il giovane maschio deciderà di attaccarlo lui ha solo una possibilità prenderlo e attaccarlo al muro se no è finito questo è un modo più crudo per vedere la leadership come va detta anche questa perché a volte bisogna chiarire le cose bene veniamo a quello che mi sta più a cuore è l'automotivazione che è la vera forza motrice che viene da noi stessi automotivazione la motivazione che io do a me stesso è prioritario saper alimentare la propria automotivazione adesso la leggo perché se no mi perdo ma bisogna alimentarla la propria automotivazione evitando di mentire noi stessi tante volte ci diciamo le bugie con la ricerca dei propri equilibri dobbiamo alimentare la nostra automotivazione con l'imparare ad accettarci a proposito di questo dopo vi conto una roba con lo star bene con noi stessi con la nostra attitudine e determinazione con il nostro senso etico con il desiderio di essere ogni giorno i migliori con l'appartenenza altro concetto altro concetto importante dobbiamo alimentare la nostra automotivazione con il senso di appartenenza consapevoli del nostro ruolo e rispettoso di quello degli altri con la furia agonistica calmi sotto pressione con la furia agonistica la furia agonistica uno dice la spacco tutto la furia agonistica la furia agonistica è cuore caldo e mente fredda se tu vuoi vincere devi avere il calore della fede delle motivazioni e devi avere la freddezza della tua qualità e della tua competenza vi dicevo con l'imparare ad accettarsi vi racconto una cosa del mondo del rugby che immagino che voi immaginate che in un mondo abbastanza macio e narcisista fatto di tutti sti bei statue e tatuate che i sevariga consumano gli specchi voglio dire io posso è stato motivo di qualche battuta no? insomma in qualche modo ho cercato anche di difendermi benissimo adesso me ne racconto una Roma stadio Flaminio io ragazzino giocavo nel casale ed ero il calciatore della squadra e dovevamo vincere questa partita contro la Roma che era metà classifica e che primavera romana stadio Flaminio Flaminio 36.000 posti di cemento vuoti c'erano 300 persone 300 romani nella primavera romana che mangiavano fave distratti guardando questa partita tanto per passare il tempo diverso era per me che era importante per noi era una partita importante per la salvezza metto giù il pallone guardo i pali mi concentro guardo i pali prendo le distanze conto i passi guardo i pali prendo le distanze devo aver disturbato uno forse l'unico dei 300 che mangiavano fave che probabilmente aveva fretta amunari bianca neve al telefono gli avversari hanno cominciato a ridere ho guardato l'arbitro e gli ho fatto pi mi sono girato ridevano anche i miei compagni volete dire che è un mondo dove uno non deve accettarsi o imparare ad accettarsi vi racconto questa ma me ne potrei raccontare una valanga guarda che non è male munari biancaneve al telefono adesso eh cioè non puoi neanche dire che non è spiritoso perché in effetti asbea dobbiamo alimentare la nostra automotivazione con sentirsi positivi con il credere in quello che facciamo aver fede non in senso biblico biblico necessariamente ma può aiutare aver fede credere in quello che facciamo dobbiamo alimentare l'automotivazione col sognare ad occhi aperti quanti di noi si sono dimenticati come si sogna sì tutti ci ricordiamo quando mangiamo un cotechino a mesanotte l'ultima volta che abbiamo sognato che avevamo il cotechino di traverso e invece la cosa più bella è sognare sognare quello che puoi realizzare sognare ad occhi aperti sognare una cosa splendida sognare il realizzabile no sognare di vincere il totocalcio quei seboni tutti no vincerlo seboni tutti sono tutti capaci di sognarlo sognare di alzare l'asticella sognare qualcosa che comunque è difficile ma che è raggiungibile che tornando a quello che dicevo prima è esplorare i propri limiti sognare di vivere a pieno le nostre qualità l'alimentazione l'automotivazione viene alimentata essendo consci che non è importante quante volte cadi ma quanto in fretta ti rialzi non è importante quante volte sbagliamo è la nostra reazione all'errore che è importante non è importante quante volte cadi ma quanto in fretta ti rialzi in pratica noi dobbiamo investire in noi stessi per essere protagonisti della nostra vita che significa la nostra vita lavorativa e anche la nostra vita 24 ore al giorno etica comportamentale qui è facile parlarne è facile dire queste cose la natura umana con l'invidia con altre caratteristiche ci mette spesso a dura prova però sono cose che un'intelligenza serena non può che prendere in considerazione dobbiamo essere disposti ad offrire più che a ricevere tu non puoi pretendere di essere dalla parte di chi riceve sempre per grazia ricevuta o qualcuno che l'ha deciso dobbiamo essere disposti a offrire più che a ricevere offro la mia lealtà comportamentale e ricevo rispetto e se non lo ricevo comunque non ho problemi perché io starò sempre con gli occhi alti perché io offro la mia lealtà comportamentale l'etica comportamentale significa avere anche lealtà generosità essere desiderosi di emulazione sana competizione copiare cosa c'è di male a copiare un esempio positivo chi di voi adesso qua immagino che nessuno avrà il coraggio se come interisti è prima chi di voi non ha mai copiato a scuola mai tutti bravi benissimo lo sapevo io copiavo io a scuola ho sempre copiato dai più bravi della classe però dobbiamo saper copiare perché copiare è del peggio copiare gli esempi positivi non c'è niente di male perché c'è qualcosa di vergognoso nel prendere atto che Francesco ha fatto una cosa giusta e cavolo la faccio anch'io perché mi viene funzionale cosa c'è applaudo a Francesco perché devo dire applaudo a Francesco che è bravo fa una cosa funzionale e comunque io sono bravo perché con la mia testa decido che quella cosa avviene bene a me saper copiare e bisogna essere bravi dal primo della classe sempre copiato si faceva molto meno fatica non avevo tanto più tempo per altre robe poi insomma dopo se il primo della classe mi sbagliava le cose faceva i conti ma insomma sano egoismo e poi c'è una cosa che è abbastanza importante per poter dare qualcosa agli altri se tu vuoi offrire qualcosa agli altri per poter dare qualcosa agli altri bisogna prima possederla lo so che è l'ennesimo concetto facile terra a terra che vi do ma io sono solo capace di parlare così io sono solo capace di dire cose ovvie se tu vuoi dare qualcosa a un altro la devi prima possedere se tu vuoi insegnare se tu vuoi insegnare a un altro devi prima possederla se tu vuoi tracciare la strada o aiutare la strada del giovane che ti lavora di fianco la competenza la competenza che vuoi passare a lui devi prima averla tu scusate ma sono cose semplicissime e sono inconfutabili saper riconoscere ed apprezzare gli esempi positivi e poi la cultura questa è un'altra cosa che vedrete che vi sarà venuta in mente moltissime volte nel mondo del lavoro è la cura dei dettagli a volte si dice così la cura del dettaglio no 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 è un'altra cosa per me la cura del dettaglio la cura dei dettagli è la conseguenza del corretto atteggiamento io quando vedo una persona che pignola e meticolosa nei dettagli diciamo madonna quanto perde no 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 è la prova la cartina torna sola del corretto atteggiamento è la prova tangibile dell'impegno di quella persona uno che cura i dettagli ci sta mettendo impegno potrà anche essere prolisso eccetera ma ci sta mettendo impegno e se io devo dare un giudizio sull'attitudine è un giudizio positivo perché significa che lui ci sta pensando sognando immaginando impegnandosi concentrandosi in altre parole la cura dei dettagli è la firma di un potenziale vincente prima vi ho parlato di perdente adesso arriviamo al vincente quando vedete una persona che cura i dettagli avete davanti voi un potenziale vincente non ho detto un vincente vincente è un'altra roba ma questo ha la potenzialità di esserlo quindi valutiamole bene queste cose e un'altra cosa che mi viene da dire quando parlo di una squadra per trovare un denominatore comune uguale più alto possibile scusatemi è la differenza che passa tra lavoro in gruppo e lavoro di gruppo il lavoro in gruppo non significa niente il lavoro in gruppo cioè scusami sono in riunione scusami sono in riunione e fa 300.000 riunioni e dentro le riunioni l'unica cosa che fanno è quella di non passarsi le notizie l'un l'altro non raggiunge l'obiettivo il lavoro di gruppo è la circolazione fertile delle notizie in mio possesso e sapete quando saremo disposti a fare il lavoro di gruppo passando la mia competenza che vi dicevo prima al più giovane quando sarò disposto a fare queste cose e fare questa circolazione fertile quando io non vedrò mai in queste qualcosa di privato da trattenermi ma qualcosa che è mutuato dal desiderio di generosità verso gli altri di aver capito che l'esplorazione dei miei limiti passa attraverso altri concetti queste cose non avranno più il valore della frenata per cui deve essere qualcosa che giudico nello stesso modo io nel mio ambito dove peraltro incasino tutto con l'alibi ma quando sarò una persona molto più serena disposta ad accettare i miei limiti guardando con serenità le cose perché sto facendo del mio meglio mi sto impegnando al massimo e allora sarò disposto se ho una conoscenza a parteciparle all'altra come sarò disposto a copiare dagli altri se verranno da me riconosciuti in quel momento nel gruppo come i primi della classe semplice a parole poi sappiamo che siamo esseri umani e quindi dobbiamo lavorare su questo ma dobbiamo lavorare all'interno di noi stessi perché ognuno di noi è un diamante del tutto particolare appartenenza nel modo più brutale che mi viene quando parlo di appartenenza di una squadra sportiva ma possiamo parlare anche di un'azienda così è che nessuno è obbligato a essere qui scusatemi ma è il modo più brutale più crudo di dire le cose come stanno l'appartenenza significa identificarsi in un gruppo significa sviluppare il senso di responsabilità all'interno del gruppo sviluppare il senso della mia responsabilità all'interno di un gruppo Giorgio Gaber diceva l'appartenenza non è un insieme casuale di persone l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé che è un gesto di generosità pensiamola come vogliamo sull'appartenenza ma l'appartenenza quando tu ti metti dietro una bandiera quando tu sei per esempio mi viene le cose quando parlo per esempio ai gruppi di vendita quando tu sei davanti al cliente il solo rappresentante perché sei tu che vai a trovare il cliente sei in quel momento però il rappresentante adesso viene chiamato agente una volta veniva chiamato rappresentante perché rappresentava allora tu devi andare davanti al cliente con la forza di rappresentare l'intera azienda che c'è dietro l'intera anima che c'è dietro allora tu trovi la forza di portare avanti gli interessi di chi vuoi rappresentare comunque noi la pensiamo sull'appartenenza di una cosa però come vi dicevo prima non possiamo non essere d'accordo l'appartenenza è una decisione individuale di noi tutti individualmente che noi motiviamo noi stessi su questo dobbiamo essere d'accordo il sogno io ho quasi finito o vi annoio o altre un pochino di vaccate ancora da dire che eh vado avanti beh sognare a occhi aperti ve l'ho già detto dobbiamo vivere per realizzare i nostri sogni ve l'ho già detto del cotechino ne abbiamo già parlato dare il valore alle cose e dare un senso gratificante al nostro quotidiano che è un'automotivazione dare il valore alle cose e dare un senso gratificante al nostro quotidiano sognare irrealizzabile che vuol dire esplorare i nostri limiti è il concetto di prima perché tutti questi concetti sono concatenati ricercare la giusta chimica la capacità analitica sincerità il focus la determinazione il credere in noi stessi aver passione per quello che facciamo e osare cos'è il successo allora guardate per quello che mi riguarda il successo è il participio passato del verbo succedere è successo fine il successo è un traguardo va sognato va progettato il raggiungimento va perseguito con senso del sacrificio e determinazione va raggiunto ma il prima possibile va dimenticato i più giovani non so io ho visto tanta gente non ho visto gente della mia età beati voi però qualcuno si ricorderà al Madison Square Garden l'incontro tra Griffith e Benvenuti quando Benvenuti divenne campione del mondo di Pugilato c'era ancora la televisione in bianco e nero i colori non li ho scelti io Fabio in bianco e nero zero televisione e Benvenuti ha vinto è un peccato che i più giovani non l'abbiano visto Benvenuti era uno schermitore di classe irraggiungibile oltretutto adesso per carità non che la cosa mi interessi in modo particolare comunque gran bell'uomo beltoso elegante gran scherma poggiristica senso e sacrificio insomma Batte Griffith al Madison Square Garden è campione del mondo è andato avanti un po' che in tutti i rotocalchi allora si chiamavano così giornali i rotocalchi in giro per l'Italia sempre allora a quel tempo lo champagne si beveva nelle coppette dopo hanno inventato il frutto dopo finalmente i ragazzini anche con quella e finalmente si beve nel bicchiere normale però allora si beveva lo champagne nelle coppette c'erano tutte queste foto e Benvenuti con le donine allegre con queste coppette eccetera eccetera ha dovuto difendere il titolo contro Monzon Monzon gli ha tirato una sberla dopo un secondo che è iniziata l'incontro gli ha tirato una pappina che se la prendo io mi arrestano a Roma per vagabondaggio è il gacciapanna elica mana elica che se non buttano gli asciugamani vi assicuro non sto scherzando e allora anche i grandi campioni a volte si dimenticano che tutti i successi sono traguardi vanno raggiunti e vanno dimenticati ma perché bisogna saper copiare bisogna saper copiare sempre dei migliori non è che bisogna copiare sempre degli anglosassoni noi gli esempi per copiare li abbiamo gli imperatori romani o anzi i generali romani che vincevano a loro veniva decretato il trionfo e allora nella via dei fori imperali a Roma passavano nella biga con le matrone romane che buttavano petale di fiori pensate che bello Terienti non ti hai mai visto una donna per quattro anni di campagna tutte queste donne che buttano petale di fiori tutti contenti il generale nel momento del suo successo era figurato nelle figi che ci sono pervenute con lo schiavo che tiene la colonna d'arroro dietro sulla sua testa e che gli sussurra all'orecchio il memento mori ricordati che sei uomo ricordati che dovrai morire porca miseria proprio il momento del trionfo i latini nel momento nel momento in cui il generale al generale veniva decretato il trionfo lo schiavo durante il corteo di continuo gli diceva ricordati che sei un uomo ricordati che dovrai morire per dire che se si vuole gli esempi da copiare quelli positivi ci sono anche da noi non bisogna andare necessariamente in inghilterra c'è una cosa da dire sulle squadre molti di voi verranno a roma domani a vedere una grande squadra che mette in campo dei giovani che sta facendo una grande programmazione gli all blacks contro i nostri ragazzi italiani ma c'è una cosa che è scritta nella vita non si può vincere sempre ammesso che qualcuno abbia trovato la strada per vincere non esistono infatti squadre che vincono sempre però esistono squadre che vincono tante che fa il pari con non è importante quante volte cadi ma quanto in fretta ti rialzi poi questa la dico perché trovo che sia funzionale ma non ci credo un accidente io sono stato fortunato che nella mia carriera di allenatore ho avuto dei giocatori forti che mi hanno fatto sembrare un bravo allenatore io anche qua bisogna essere astuti cioè bisogna circondarsi a persone migliori di noi perché se ti circondi a persone peggiori ti avessero il peso che vorrà mica tanto anche qua è semplice la dico però ve la dico vincere è facile ma è il perdere che insegna il perdere non so cosa puoi insegnare invece non è così il perdere insegna ma il perdere insegna a chi ha le caratteristiche di essere un vincente al perdente non insegna infatti lui va a spiegare perché perde il vincente quando perde cerca di capire perché ha perso mangia quella cosa amara che si mangiano in questi casi e non pensa altro alla prima occasione per rifarsi a questo genere di persone perdere qualche volta insegna la vado via un po' veloce ho quasi finito perdonatemi se mi dilungo allora a questo punto è il perdente a siamo perdere spero di avervi spiegato e se qualcuno di noi indulgeva in passato a spiegare perché era si volato su una buccia di banana prende in considerazione forse che se non lo fa ha già il vantaggio di evitare di essere commiserato perché questo è quello che accade a meno che qualcuno ma potete tranquillamente dirlo mi sconfessi ma non credo allora del perdente abbiamo parlato del vincente abbiamo parlato allora qual è la vera cosa essendo la vittoria cosa del successo abbiamo parlato la vittoria è la conseguenza ancorché fortunata del buon lavoro quotidiano tu non puoi pretendere che perché lavori duro lavori bene lavori al meglio tu e la tua squadra vai a vincere perché anche il tuo il tuo avversario il tuo competitor sta facendo la stessa cosa e guardate a volte le sfide internazionali tra squadre di grande livello di qualsiasi sport a volte vince una squadra sull'altra per il singolo accadimento la vittoria è la conseguenza ancorché fortunata del buon lavoro quotidiano cosa significa tradotto aiutati che dio ti aiuta la fortuna aiuta gli audaci la traduzione è che è il buon lavoro quotidiano la strada per cercare di avere quel plus quell'accadimento che giri in mio favore ma la condizio sine qua non è il buon lavoro quotidiano ed è nel mio impegno quotidiano che dimostro la vera caratteristica tra tutte queste cose che vi ho detto se sono un perdente o un vincente non è nella vittoria è nel quotidiano che si vede chi è un vincente ed è il quotidiano ogni singolo giorno della nostra vita che noi possiamo dimostrare di che pasta siamo fatti e qua ho finito sognare qui leggo perché come vi dicevo io copio sempre dei migliori adesso leggo perché noi voglio imparare tutte a memoria Antoine de Saint-Exupéry quello del piccolo principe se vuoi costruire una nave non ordinare agli uomini di raccogliere legna o dare ordini e compiti ma insegna loro la nostalgia e l'amore per il mare aiutare a sognare gli altri e a sognare te stesso devi avere il cuore leggero e la mente libera e la mente libera ce l'hai quando non ti racconti le bugie quando non vivi alibi e quando bla 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 tutte che robe che ho detto prima pensateci ma è così sull'etica permettetemi di di portarvi invece un un passaggio non tra i più conosciuti che ha detto Nelson Mandela che ho avuto la fortuna di incontrare anche se molto molto purtroppo troppo brevemente ma probabilmente la persona del secolo scorso ce ne sono state tante ma credo che come questo questo è veramente una cosa e tra le tante cose ha detto è quello che facciamo di ciò che abbiamo e non ciò che ci viene dato che distingue un uomo da un altro è quello che io faccio delle mie risorse e delle mie qualità non quello che io posso fare perché l'ho ricevuto da un altro che mi fa distinguere è dentro noi stessi che dobbiamo trovare le risorse siamo noi i nostri tesori siamo noi il nostro futuro siamo noi la nostra certezza siamo noi le nostre radici ce n'è un'altra questa è una barzetta ma questa la dicono per i bambini dello zacchino d'oro è scientificamente provato che l'ape in rapporto al suo peso alla sua forza alla sua forma e alla sua apertura all'are non può volare è comprovato l'ape non solo vola ma fa anche il miele non è male voglio dire è una che si impegna vi lascio con questa qui ho quasi finito sì ho finito è una leggenda hindù gli dei si erano arrabbiati con gli uomini per l'uso che facevano della loro divinità togliamo la divinità agli uomini perché non se ne può più ma dove gliene nascondiamo questi sono bravi la trovano sotto terra nell'oceano scaviamo una rota no ma sono bravi esploratori la vanno a ritrovare eccetera sai dove la nascondiamo la divinità dell'uomo la nascondiamo dentro l'uomo stesso perché è l'ultimo posto in cui andrà a cercarla tutti noi siamo fatti come un iceberg sapete che la parte che emerge è di gran lunga inferiore a quella sommersa le nostre attenzioni sono tutte sul look e sull'apparire e non abbiamo attenzione per la parte sommersa dobbiamo avere il coraggio di esplorarla lì risiede il nostro equilibrio nella parte sommersa risiedono i nostri limiti e il superamento dei nostri limiti nella parte sommersa risiede tutta la nostra forza e noi dovremmo avere tutti noi parlo anche per me anzi soprattutto per me dovremmo avere la voglia di essere più attenti a noi stessi e guardarla dentro di noi ho finito vi lascio siccome vi ho parlato il rugby magari non vi è interessato più di tanto vi lascio con una cosa che ha detto John Wooden l'ha detta negli anni è stato uno dei più grandi allenatori di basket americano degli anni 70 e vi lascio con questo come un incoraggiamento è un auspicio per ognuno di noi e per la nostra vita futura l'unica persona che sa se hai vinto o perso sei tu sotto la doccia se hai dato tutto hai vinto se non hai dato tutto hai perso il tabellone è un'altra cosa il vincente non è la vittoria il vincente è quello che dai tu come giudizio sereno di te stesso ho finito ce n'era un'altra ma i migliori auguri per la vostra attività grazie molto dell'attenzione grazie fammi dire un'altra roba sono tutti e due interisti tutti e due interisti ma per quello noi abbiamo discusso tanto che omaggio dare a Vittorio e quindi è stato momenti di grande discussione tanto per capire dopo una delle tante sconfitte dell'inte io scrivo a Vittorio e gli dico il nostro amore per l'inte è tale che anche nei momenti di grande delusione non viene in meno anzi ogni sconfitta alimenta e rafforza la nostra fede per i colori nero-azzurri quindi parliamo dei colori lui risponde Amen c'eravamo appena conosciuti per quello adesso il colore adesso lui prima parlava di sogno cioè il sogno nostro e non a caso siamo due dell'inter è che anche Vittorio Murani faccia parte della squadra dell'inter per cui Vittorio Munari apri 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 mamma mia no no stupenda grazie no ma se l'è voluta se l'è voluta lui stupenda grazie 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 molte grazie a tutti grazie 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 a tutti